Ciao a tutti ragazzi, con il recentissimo banner 26 agosto di Nadu e Griff in Modern raggiungiamo veramente una vetta, come dire, parecchio alta di ban fatti anche in breve tempo. Ho quindi voluto dedicare ragazzi un video proprio a questo discorso, al discorso dei ban, mi soffermerò principalmente sul modern perché secondo me è il formato che più ha subito l'influenza di questo ragionamento, di questo che vi sto per fare, rispetto invece ad altri formati più dinamici come per esempio il Pioneer, vabbè Legacy Vintage è un discorso molto particolare a parte, il Pioneer è lo standard che secondo me hanno subito un po' meno ban o quantomeno quando li hanno subiti ne hanno subiti tanti ma per assestamento è un discorso un po' diverso ma adesso lo vediamo con calma. Prima di iniziare però ragazzi come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettere un like ai nostri video ovviamente se vi va e se vi piacciono i nostri contenuti e soprattutto vi ricordo il nostro sponsor Fantasia Store. Trovate un sacco di prodotti e con Lotus 5 scritto tutto maiuscolo avete il 5% di sconto su tutti i prodotti non già in offerta, quindi mi raccomando date un'occhiata anche a quel sito. Allora perché modern secondo me sta subendo e ha subito troppi ban mentre per esempio il Pioneer che comunque ne ha subiti parecchio non ne ha subiti così tanti o meglio ne ha subiti ma è un discorso diverso. Allora partiamo dal presupposto che formati come il Pioneer, potrebbe essere anche lo standard ma il Pioneer secondo me è un esempio migliore, sono formati recenti o meglio il Pioneer in realtà esiste già da qualche anno, non è proprio un formato appena nato. Però a livello di gioco non è mai stato un formato estremamente giocato a livello locale, estremamente vivo per quanto riguarda la community. Sì ci sono stati pro tour quindi in realtà ci sono stati tanti tornei competitivi in Pioneer, però come dire ha sempre avuto un po' meno attenzione rispetto al modern che invece è sempre stato uno dei formati più attivi e più giocati dalla community, sia cartacea che online. Quindi in realtà i ban di Pioneer, sebbene tanti, sono comunque stati tantissimi per assestamento, ripeto. In un formato in cui non c'è così tanto pool di carte come per esempio il modern, è più facile che serva assestare il meta e dover fare dei ban anche graduali per poi arrivare a regime con un metagame sano ed equilibrato per tutti. Tra l'altro è altrettanto facile che escano delle carte che impattano molto il formato, delle carte nuove che impattano molto il formato, perché è un formato corto quindi ci sta che mi esce a maglia banalmente, che mi sconvolge il meta. Ci può stare, è una cosa che ha senso in un Pioneer e quindi ha altrettanto senso bannare spesso, bannare sovente e prendere dei provvedimenti il prima possibile. Questo discorso secondo me invece non vale per il modern. O meglio, varrebbe anche per il modern se fosse normale che uscisse una carta che rompe il metagame ogni 3x2, ma non è normale per quanto mi riguarda che esca in un formato come il modern, con un power level così alto, letteralmente ogni 3x2 una carta che rompe il formato. E se non è una carta è una sinergia e se non è una sinergia sono un insieme di carte, vedi Mardu Energy e così via. Cioè ogni 3x2 esce una carta o un gruppo di carte, una meccanica, quello che volete voi, che distrugge completamente il metagame, che rivoluziona completamente il metagame. Questo causa da lì a poco ha dei bann o dei provvedimenti e qualora questi provvedimenti non avvenissero, vedi Griff, a un certo punto si arriva che poi si bannano in ritardo le carte. Griff è una carta che non è uscita ieri, è stata nel metagame per tanto tempo, però poi a un certo punto ha rotto definitivamente le scatole alla wizard che ha deciso per questo ban. Che premetto? Non sto condividendo, un discorso complicato che ho fatto in un video dedicato che vi invito a guardare, è già uscito sulla banlist proprio, però è un dato di fatto. È un dato di fatto che è stato bannato adesso. Le motivazioni vi ripeto di andare a vederla in quel video perché non è questa la sede. Fatto sta che anche in questo ban ci sono stati ben due ban di moda e ripeto che ultimamente ce ne sono stati tanti. Quindi qual è il discorso? Il discorso è che punto 1 escono troppe carte dal power level alto e questa è una cosa che dico sempre in tutti i video, l'abbiamo detto alla nausea. Se continuano ad uscire carte da un power level così alto che mi rendo conto sia necessario per mantenere comunque un minimo di appeal ai nuovi set eccetera, ma in modern se continuiamo a fare uscire set con carte molto forti, The Waring, Orchetti, Shouldered, Adesso Nadu, il ciclo degli elementali, tutte le energie, tutte le mille carte di Horizon 3 che hanno rivoluzionato il meta e chi più ne ha più ne metta, causeremo sempre comunque dei ban o delle necessità di ban perché se andiamo a vedere allora se banni, vabbè Nadu non è discutibile, è ovvio che andava bannata, non è stata proprio ragionata come carta e va bene, ma se banni Griff per quanto mi riguarda in modern ci sono anche altri ban possibili, Energy dovrebbe avere un nerf probabilmente, allora cosa fai? Banni a Gianni? E Horizon 3 non l'hanno bannato per quello. Anello a sto punto potrebbe avere un potenziale ban, io non lo bannerei perché secondo me anello è quello che tiene in piedi tutta una serie di mazzi che altrimenti non esisterebbero, quindi in un certo senso è un bene anello nel modern, però a livello di power level se banni Griff probabilmente dovresti bannare anche anello, premetto che non bannerei anello e così via per tante altre carte. E guarda caso gli esempi che sto facendo sono tutte carte uscite veramente di recente, quindi oltre che rendere il formato estremamente dinamico, estremamente ballerino perché ogni set un po' importante che esce il modern switcha completamente e ne abbiamo avuto prova ormai più volte che esce Lord of the Rings e il meta viene stravolto, esce Horizon 3 e il meta viene stravolto. Poi fanno una ban list che banna Nadu e Griff e quindi il meta viene stravolto per l'ennesima volta perché con il ban di Nadu tanto quanto, ma con il ban di Griff vengono poi a rimergere tutta una serie di archetipi e a cambiare tutta una serie di mazzi che erano spariti o che non esistevano neanche. Quindi è una ban list che cambia veramente in modo profondo il meta e così via in loop per set ban, set ban. C'è ormai il modern entrato in un loop continuo che perdura ormai da un po', devo dire da qualche anno, di set bomba e ban, set bomba e ban, che rende il meta di un volatile, di un ballerino, di una facilità di cambiamento troppo alta. È un formato eternal, non ha senso questa cosa, non va bene. È un formato eternal, io mi aspetto di montare un mazzo e che quel mazzo lì mi duri due anni, tre anni, quattro anni. Sì, ci posso aggiungere delle carte e magari cambiare qualcosa, mi sta bene. Non mi aspetto di giocare Tron nello stesso identico perfetto modo per tutta la mia vita, però mi aspetto di giocare Tron per tutta la mia vita. Così come non mi aspetto di magari giocare lo stesso identico mazzo senza variare, non so, Amulet o Murtide o tutti questi Mayagmot senza mai cambiare una carta dentro. Non avrebbe senso ed è anche bello che ogni tanto nasca qualche nuovo archetipo e che ritorni qualche archetipo con il ban. Però, ripeto, non va bene che cambi così tanto. Tutto questo discorso per dire che cosa? Che ci sono troppi ban, per me troppi ban, troppi set che continuano a uscire e variare il meta, troppi pochi sban perché la Wizard non sta minimamente considerando la possibilità di sbannare cose, secondo me. E se guardiamo la banlist c'è un video di Isma dedicato, ci sono una marea di carte che si potrebbero sbannare, Jit si potrebbe sbannare domani mattina, Twin io personalmente valuterei se sbannarlo, poi capisco il discorso di Teferino eccetera, ma Twin potenzialmente uno sbanna. Ci sono carte veramente cagate da nessuno, ingiocabili probabilmente che potrebbero essere sbannate. Credo che se no 4-5 carte si possano tranquillamente sbannare in Modern senza problemi. Secondo me quello che va fatto è quindi fare un reset del formato, o meglio, chiarirsi un attimino le idee su quelle che vogliono essere le linee guida del formato, che non possono essere quelle che ci sono adesso perché il formato sta andando malissimo e sta peggiorando di volta in volta. Fare un ripulita di tutte quelle che sono le carte che non rispecchiano queste linee guida, eventualmente quindi fare anche una serie di ban a catena. Mi rendo conto che sia una situazione drastica e che andrebbe veramente a scoinvolgere il Modern 100%, però secondo me piuttosto che avere una situazione volatile che continua a cambiare è meglio un cambiamento drastico secco, che vada a cambiare il formato e fare più bann e più sbann contemporaneamente, quindi tutte quelle che sono le linee guida del formato io le banno. Non mi piace la meccanica degli elementali, li levo tutti, bon, via. Cambierebbe il meta in una maniera folle, non lo faranno mai e sto parlando di utopia e mi rendo anche conto che Endurance poverino non ne può niente. Però sicuramente ci sono delle carte su cui ci si potrebbe ragionare, quindi Griffa è stato bannato, va bene, Fury è stato bannato, magari si toglie qualcosa a Mardu Energy perché è troppo sgravo, ci sta, si toglie Anello perché magari non rispecchia determinate meccaniche. Insomma mettere dei paletti, sbannare tutta una serie di carte che invece andrebbero sbannate, riportare il Modern ad una situazione di stabilità e poi da quel punto in poi andare a ponderare veramente molto bene con attenzione le carte che escono, in modo tale che non esca più NADU, che non escano più carte che stravolgono così tanto il meta. Questa per me sarebbe la soluzione per il Modern. Non verrà mai adottata, non verrà mai adottata, probabilmente anche molto complicata, è solo un'idea utopica, però secondo me è la situazione che veramente potrebbe cambiare il Modern. Così come sta andando adesso può solo che peggiorare, può solo che continuare a esserci ban, sbann, anzi pochi sbann, tanti ban, set che stravolgono il meta, di nuovo dei ban in un loop continuo che non porterà secondo me niente di buono, oltre che un continua frustrazione dei giocatori, un continuo cambio dei mazzi e tutta una situazione spiacevole che si crea attorno. Quindi per me questo approccio che sta avendo la Wizard per quanto riguarda il Modern non funziona e porterà lentamente il formato a morire. Io non lo so se decideranno di cambiare via, cambiare strategia completamente, rivoluzionare il formato. Per me però è una cosa che o prima o poi andrà fatta se effettivamente si vuole prendere, mantenere il formato. Altrimenti si lascia il formato diventare il nuovo Legacy che è quello che un po' sta succedendo e piano piano si inseriranno nuovi formati come il Pioneer al posto del Modern che verrà semplicemente sostituito. Questa è la mia opinione ragazzi, sono curioso di sapere la vostra nei commenti quindi mi raccomando scrivete tutto nei commenti, cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima. Ciao!